Sono molto preoccupato e addolorato per l'acquirsi delle tensioni in Terra Santa e in Medio Oriente e per la spirale di violenza che allontana sempre più dalla via della pace. Del dialogo e dei negoziati. Esprimo il mio grande dolore per i morti e i feriti. Sono vicino con la preghiera e l'affetto a tutti coloro che soffrono. Ribadisco che non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra. Violenza chiama violenza. Invito tutte le parti in causa e la comunità internazionale a rinnovare l'impegno perché prevalgano il dialogo, la giustizia e la pace. Grazie. 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 Grazie.